Sbloccata la situazione di Anpass che in questi ultimi giorni si era venuta a creare in seno all'ente civico del capoluogo d'Abruzzo relativamente al pagamento delle ultime mensilità del CAS, il contributo di autonoma sistemazione. Facendo un rapido storico della vicenda, tutto si era originato a causa della decisione del Ministero per l'Economia di erogare direttamente al Comune gli stanziamenti finanziari. Questo quindi senza operare il passaggio intermedio del trasferimento di fondi all'ufficio speciale Aquilano, struttura che secondo Prassi Consolidata provvedeva poi a girare gli emolumenti al Comune. Il dubbio in definitiva avverteva sulla possibilità o meno di trasferire gli accreditamenti ai beneficiari. E quindi finalmente un annuncio positivo in prossimità della Pasqua per le cittadine e cittadine aquilani e cioè che mercoledì 1 aprile, e non è uno scherzo, pagheremo le tre mensilità residue dell'anno 2014 quindi paghiamo il CAS di ottobre, novembre e dicembre, mercoledì 1 aprile. La settimana successiva procederemo al pagamento delle ultime tre mensilità, cioè gennaio, febbraio e marzo 2015. In questi soldi ovviamente sono compresi anche i pagamenti per gli affitti del Fondo Immobiliare e degli affitti concordati. Intanto, proprio il 1 aprile prossimo, il Comune cesserà tutte le forme onerose di assistenza alla popolazione. Dunque, in questi giorni si sta procedendo al passaggio e trasferimento nei progetti CAS e MAP di quelle famiglie che ancora beneficiano di CAS, affitti concordati e fondo immobiliare. I cittadini si stanno mostrando molto collaborativi, stanno scegliendo in base alle disponibilità e alle loro esigenze la destinazione più appropriata e quindi credo che adesso, negli ultimi giorni in cui saranno attive queste operazioni, riusciremo a chiudere l'assistenza onerosa. Fermo restando, e questo lo voglio sottolineare, che è un diritto sempre esigibile. Nella fattispecie stiamo parlando dell'assistenza alla popolazione e quindi del progetto CAS e MAP. Pertanto, qualora qualcuno rifiutasse oggi ma decidesse di accettare un alloggio domani e domani significa finché sono attivi i requisiti per l'assegnazione, quindi l'agibilità dell'alloggio di provenienza, possono richiedere presso i nostri uffici un appartamento.